salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente ci troviamo a fare il test dopo aver fatto l'unboxing del sjrc f11 4k pro questo drone che sta veramente spopolando su youtube perché comunque caratteristiche video sembrano davvero ottime prezzo super super competitivo quindi l'insieme di queste due cose camera 4k che riprende stabilizzata benissimo così sembrerebbe e prezzo super super economico ragazzi rende questo drone davvero interessante e soprattutto un prodotto che potrebbe essere alla portata di tantissime persone quindi ragazzi direi di non perdere altro tempo anche perché del drone abbiamo già parlato nell'unboxing come vi ho detto anche nell'unboxing il mio non ha né optical flow né sensori sotto lo so che mi avete scritto che ne avete visti altri che ce l'hanno il mio non li ha però altri mi hanno scritto che l'hanno acquistato e anche il loro non li ha quindi oggi staremmo a vedere come si comporta questo drone senza optical flow e senza nessun sensore qua sotto quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e vediamo com'è questo drone nella sua stabilizzazione nel suo overing nel suo 4k nel suo return to home e ovviamente nella sua sicurezza di volo ragazzi non perdiamo altro tempo e decolliamo con questo sj rc f11 4k pro ok ragazzi per prima cosa colleghiamo lo smartphone alla rete wifi del drone eccola qua trovata siamo connessi a questo punto andiamo a aprire la nostra applicazione sj rc f pro e facciamo control perfetto il drone è connesso e siamo pronti adesso la prima cosa da fare è calibrare il drone infatti è già uscita vedete la calibrazione del compass per interferenze perché comunque tra telecamere e cose c'è un po di tutto qua l'imu l'ho già calibrato a casa perché per calibrare l'imu bisogna metterlo su un posto piano e fare la calibrazione dell'imu anche perché non si fa tutte le volte quindi lo mettete a casa tirate le due levettine i joystick verso l'esterno il led lampeggiano e a quel punto è fatta la calibrazione dell'imu quindi fatela a casa in un posto piano questo vale per tutti i droni mentre adesso faremo la calibrazione della bussola per fare la calibrazione della bussola ragazzi è semplicissimo tiriamo i due joystick verso l'interno ok vedete che già nell'applicazione appare cosa dobbiamo fare cioè far ruotare il drone in questa maniera dopodiché lo faremo ruotare in questa maniera perfetto calibrazione avvenuta con successo quindi adesso siamo pronti a fare il nostro test di questo SJ RC F11 4K Pro vi ricordo ancora una volta che questa è la versione che non ha l'optical flow quindi non chiedetemi il perché o il per come ma non ha l'optical flow perfetto siamo pronti al decollo eccolo qua l'SJ RC F11 4K Pro allora ragazzi questa come vi ho detto è la versione senza l'optical flow mi è stato detto che esiste anche la versione con l'optical flow ma questo non ce l'ha però ragazzi guardate l'overing non ha sensori sotto né sensori ultrassuono né optical flow ma l'overing direi che è davvero davvero ottimo per un drone che non ha questi sensori neanche l'app sanzino aveva un overing di questo tipo proviamolo abbiamo tre possibilità di volo sport mode normal mode o camera mode questo è normal mode il drone viaggia in questa maniera questa è la versione intermedia proviamo a cambiare e mettiamo sport mode che è questa e qua viaggia di brutto ma proprio di brutto guardate come viaggia questa è la versione ragazzi sport mode e poi abbiamo invece la versione camera mode che è questa in teoria dovrebbe essere molto molto lento infatti così sono al massimo vedete e il drone è in velocità diciamo da crociera appunto per ottimizzare le riprese video adesso volevo vedere il ritorno video che secondo me non è niente male vediamolo anche nel movimento del gimbal aspettate che mi alzo direi che il ritorno video non è niente niente male anche il movimento del gimbal guardare non è male per essere un drone economico si muove un po brusco ogni tanto a scatti no dai si muove un po a scattini però calcolate sempre con droni da 160 euro è quindi il movimento del gimbal è un pochino brusco vediamo ancora si a un certo punto parte lento poi un certo punto scatta però ricordatevi sempre il prezzo vediamo la stabilità dal punto di vista video che è la cosa che interessa di più perché comunque questo drone è stabilizzato meccanicamente su due assi ma se ne parla davvero davvero bene vediamo la qualità video che ovviamente è solo un campo questo però secondo me dà l'idea di quello che è la qualità video di questo drone non c'è un gran sole c'è praticamente un po di foschia quindi la luce i colori non sono diciamo ottimali per fare riprese video però quello che conta forse di più in tutto questo cioè in questo drone è sicuramente vederlo dal punto di vista della stabilizzazione della camera adesso prova a metterlo in normal mode così viaggia un po di più e vediamo come stabilizza in normal mode così è normal mode ragazzi quindi dovrebbe essere comunque una velocità adatta per fare riprese video adesso sto scendendo in qualche maniera perfetto proviamo andare un po verso il basso così adesso proviamo allontanarci vediamo dire che dal ritorno video direi che è davvero ottima la stabilizzazione quasi quasi incredibile che un drone così economico abbia questa stabilizzazione poi ovviamente adesso io vi sto parlando non posso vedere la scheda sd ma poi quando voi vedrete questo video starete guardando anche come ha registrato ovviamente la scheda sd del drone perfetto allora direi di provare qualche funzione di questo drone allora proviamo le funzioni follow sono due perché abbiamo sia la possibilità di diciamo che il drone stando fermo ci segua o la possibilità proprio che il drone ci segua fisicamente quindi proviamo la prima quindi il drone andando a selezionarmi perfetto vediamo mi sta seguendo ok vediamo così vedete che il drone mi continua a seguire io gli sto girando intorno lui sta fermo e mi segue adesso proviamo l'altra opzione cioè il gps follow vediamo se il drone mi segue lui non segue soggetto quindi non segue ma segue tutto quello che ho in mano quindi vediamo se realmente lo fa quindi selezioniamo ok lui dovrebbe seguirmi perché io ho in mano lo smartphone e il controller e infatti vedete che sta arrivando è lo vedete io non sto toccando niente vedete vedete e lui mi segue perché ho in mano il controller e il radiocomando vediamo ovviamente mi perde perché non mi sta inquadrando lo vedete che lì adesso io vado all'indietro ok quindi questi droni economici ovviamente il follow lo fanno così e questo ormai è risaputo che diciamo hanno questo sistema di fare il follow cioè che seguono il radiocomando adesso direi che possiamo anche provare un return to home magari quindi adesso lo lasciamo un attimo qua in hovering torno alla mia postazione di comando eccomi qua quindi adesso non ci resta che provare un return to home comunque il ritorno video è davvero buono eh il gimbal si muove a scatti ma non come ritorno video siamo proprio a scatti come movimento nel senso che il movimento del gimbal non è proprio perfetto dal punto di vista del movimento in sé ci allontaniamo intanto così vediamo anche il ritorno video e vediamo come si comporta appunto il drone nelle inquadrature e nelle riprese dall'alto vediamo siamo a 130 metri circa il ritorno video c'è ancora vediamo c'è ancora ritorno video siamo a 250 questo non è un range test è solo una prova per vedere come fa il return to home ragazzi quindi adesso tra poco ci fermiamo siamo a 300 metri ritorno video c'era ancora facciamo il return to home che poi magari un reggitesto facciamo un'altra volta quindi clicchiamo sul tasto del return to home confermiamo e vediamo il drone come se ne ritorna allora sta ritornando vediamo sta arrivando e vediamo come si comporta non sto toccando niente ovviamente ragazzi come vi ho detto prima io vi sto parlando ma la micro sd non l'ho ancora guardata quindi io mi baso su quello che vedo nello smartphone direi che il ritorno video è buono anche come definizione direi che non è niente niente male adesso è qua sopra di me vediamo mi sposto e vediamo dove va a posizionarsi rispetto al landing sta scendendo abbassiamo la telecamera perfetto vediamo dove va a posizionarsi è sta arrivando e qui perfetto vediamo vediamo wow 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 non lo fermo eh ragazzi wow 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 return to home direi perfetto ok non ha beccato l'h ma ha beccato l'h infatti non l'ho voluto fermare anche se mi è finito nell'erba e quindi si sarà un po' sporcato ed è una cosa che odio i droni che si sporcano di erba bagnata perché comunque c'è il fango e c'è l'erba bagnata perché ragazzi era troppo vicino al landing per andare a fermarlo ragazzi guardate pazzesco direi che il return to home è bestiale direi che ha fatto un return to home con le contropalle l'avete visto ha beccato il landing ve l'ho già detto un sacco di volte non è importante che becchino il landing lo sapete l'importante che tornano l'importante che ritornino da dove sono partiti che è la cosa più importante in assoluto però è sempre bello vedere cosa sono in grado di fare questi droni al giorno d'oggi e vederlo fare da DJI ok da hotelivo da Parrot cioè da tutti questi droni molto costosi ok ormai ci siamo abituati non ci sorprendiamo neanche più ma vederlo fare da un drone da 160 euro ragazzi è sempre qualcosa di affascinante è vero non sono andato lontanissimo ero a 300 metri però 300 metri ritornare a beccare il landing devo dire tanto di cappello a questo drone tanta roba tanta tanta roba allora direi che visto che abbiamo ancora un po' di batteria possiamo secondo me provare anche qualcos'altro vediamo quindi ah è vero ragazzi la rotellina qua di sinistra io adesso la stavo usando per regolare la telecamera mentre fa lo zoom vedete che se io adesso abbasso la telecamera con questa perché sono abituato che la rotellina che regola il gimbal è questa invece è da questa parte questa invece fa lo zoom guardate ok quindi abbiamo lo zoom in questa rotellina ragazzi una cosa che volevo provare che abbiamo ancora un pochino di batteria sono i WePoint vediamo come li fa quindi selezioniamo noi siamo qua ne improvviso una cosa velocissima ragazzi giusto per renderci conto di come funzionano e se funzionano quindi diamo il go e vediamo come si comporta il drone allora sta facendo il percorso vediamo ovviamente è stata una cosa così improvvisata giusto per vedere se li fa e come li fa mi sono alzato un po' perché là c'era una pianta e ho paura che andava a sbattere quindi però lui sta continuando il percorso mi sono solo alzato di quota perché avevo paura che andasse a sbattere la contro la pianta vediamo bene la prospettiva vedete che sta facendo il percorso che gli abbiamo impostato quindi sta facendo tutto io non sto toccando assolutamente niente vediamo bene direi davvero davvero molto molto bene davvero bene ovviamente we point li possiamo fare al massimo all'interno di questo cerchio che ci viene dato e quindi questo diciamo questo limite è il limite massimo del percorso che possiamo dargli e non possiamo andare oltre a questo cerchio nella creazione dei nostri we point quindi vediamo sta ritornando o meglio sta andando verso al numero 4 perfetto direi perfetto davvero davvero perfetto è tanta roba tanta tanta roba stiamo andando verso il numero 5 e poi non so se fa il return to home o se si ferma al numero 5 adesso lo scopriamo anche perché ragazzi non l'avevo ancora provato questa è la prima prima prova vediamo siamo arrivati al numero 5 manca poco perfetto vediamo cosa fa e fa il return to home volo completato allora no non è vero non fa il return to home ci fa vedere dove siamo per fare il return to home quindi dovremmo fare noi il return to home in automatico o ritornare manualmente ritorniamo manualmente tanto siamo vicino quindi stiamo arrivando guardalo qua lo metto un attimo in sport mode che così arrivo più velocemente eccolo qua perfetto perfetto riguardiamo un attimo l'overing che secondo me è interessante per un drone che non ha neanche un sensore sotto almeno il mio modello non ce l'ha quindi vediamo l'overing guardate l'overing perfetto e mi fermo direi che è ottimo calcolando che non ha neanche un sensorino sotto di lui quindi riportiamo l'SJRC F11 4K ottimo direi davvero ottimo lo facciamo atterrare eccolo qua allora ragazzi cosa dire di questo SJRC F11 4K Pro tanta roba tanta tanta roba l'avete visto l'ho usato nelle cose in cui diciamo sono le cose più importanti quando si acquista un drone quindi stabilità di volo sicurezza nel volo che sono le cose ragazzi principali quando si acquista un drone di questo tipo e comunque di questo peso e comunque anche di questa fascia di prezzo il drone ragazzi vola benissimo l'avete visto anche dal punto di vista della sicurezza il return to home perfetto quasi imbarazzante che abbia beccato il landing comunque il return to home è perfetto arrivato qua non ero lontano avete visto 300 metri ma non era un range test anche perché con questi droni economici io più in là di tanto non trovo neanche il senso di andarci al di fuori del discorso di quello che diciamo la regolamentazione e la legge qua nel nostro paese però al di là che uno poi voglia infrangere o meno la legge io comunque non la infrangerei più di tanto con un drone economico questa è la mia opinione che sia questo che sia un altro che sia un altro se la dobbiamo infrangere infrangiamola con dei droni diciamo di alto livello non con questo tipo però avete visto che fino a 300 metri anche il ritorno video c'era tranquillamente quindi sicuramente secondo me dal punto di vista il ritorno video viene dato mi sembra intorno ai 600 metri o 800 metri non ricordo però secondo me arriverà intorno ai 500-600 massimo mentre dal punto di vista del radiocomando viene dato un chilometro e mezzo e probabilmente quello magari quasi ci arriva però calcoliamolo magari intorno al chilometro chilometro e due perché dal punto di vista del ritorno video siamo a 5,8 GHz come trasmissione mentre dal punto di vista del controllo del radiocomando la trasmissione a 2,4 GHz quindi a livello di sicurezza del drone e sempre del controllo del drone quindi come sicurezza che il drone venga controllato è sempre maggiore rispetto a quello che è il ritorno video e poi ragazzi parliamo della stabilizzazione di questa cam che è solo stabilizzata su due assi ma secondo me tanta tanta roba io adesso però vi sto parlando senza aver visto le immagini quindi non so dirvi la qualità proprio nel dettaglio delle immagini del 4K e anche la stabilizzazione io l'ho vista all'interno dello smartphone e vedevo che comunque stabilizzava bene però io non l'ho ancora vista nel monitor del computer voi invece l'avete già vista adesso perché siete più avanti voi di me quindi ragazzi per il resto la durata delle batterie viene dato per 26 minuti non so in realtà quanti ne ho fatti oggi non ve lo so dire ma sicuramente non pochi secondo me oltre ai 20 ci sono andato tranquillamente è vero che non ho fatto cose assurde però è un drone per riprese video quindi cose assurde in teoria non se ne dovrebbero mai fare quindi anche la modalità sport la si dovrebbe utilizzare poco con un drone di questo tipo perché se si fanno riprese video la modalità sport sicuramente forse è un pochino eccessiva per certe situazioni comunque oltre ai 20 minuti tranquilli secondo me anche a 25 ci sono arrivato adesso non lo so però indicativamente così poi cosa dire ragazzi l'overing l'avete visto è un chiodo è super fermo sebbene come vi ho detto più volte il mio non ha nessun sensore qua sotto anzi ve lo faccio rivedere perché tanti mi hanno scritto no ma abbiamo visto altre recensioni e il drone ha i sensori sotto no non ce l'ha non ha nei sensori qua vedete e neanche l'optical flow è tutto finto quello che c'è probabilmente ci sono versioni che ce l'hanno perché se gli hanno fatto questi stampi magari ci sono versioni che hanno una di queste cose ma il mio non ce l'ha e ho sentito ovviamente anche altri che l'hanno acquistato che non hanno niente però avete visto che non è per niente un problema il drone sta fermo in overing di bestia in alto poi ancora meglio perché l'optical flow tanto in alto non servirebbe comunque perché non legge comunque il suolo e il drone è fermissimo quindi fregatevene se vi arriva con o senza l'optical flow perché è comunque un chiodo fermo immobile e poi ragazzi cosa dire il radiocomando ben fatto questo già ve l'ho detto quando abbiamo fatto l'unboxing quindi ragazzi conclusione vi consiglio questo SJRC F11 4K Pro assolutamente sì se volete spendere non una cifra importante non volete droni costosi perché comunque non volete affrontare spese importanti per un drone e questo ci sta questo è il drone che fa al caso vostro link in descrizione la cifra più o meno intorno ai 160 euro dovrebbe essere in offerta adesso se ho il coupon sconto ve li lascio qua sotto in descrizione o sul mio canale telegram offerte quindi da qualche parte i coupon ve li metto per acquistarlo ancora a un prezzo più basso di quello che comunque è già cioè un prezzo basso quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità curiosità anteprime iscrivetevi se vi va al mio canale telegram offerte per sostenere il canale e per trovare ovviamente anche i coupon sconto da utilizzare per questo e per altri oggetti tecnologici ma soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao ragazzi ciao